In questa lezione affrontiamo i comandi a linea 2D e a linea 3D di AutoCAD Andiamo a conoscerli Il comando si trova sotto questo punto e l'icona interessata è questa qua a linea Diciamo che ci occorre allineare questo pezzo su questo angolo in basso sulla sinistra Vediamo cosa ci chiede la linea di comando Selezionare l'oggetto A questo punto il primo punto di origine Poi l'altro punto di destinazione sull'oggetto di riferimento E clicchiamo in questo punto Questo permette, in pratica questa operazione, l'assegnazione di questi due punti permette lo spostamento Ora per quanto riguarda la direzione, diciamo la rotazione, ha bisogno dei secondi due punti Questo è il primo e diciamo che si deve allineare lungo questo asse A questo punto può bastare perché l'oggetto è in 2D Qui vediamo dopo cosa rispondere eventualmente se volessimo scalare Per il momento diciamo no E osservate che l'oggetto è andato a calamitarsi nel posto voluto Annulliamo Vediamo l'opzione scala che in realtà non è altro che ripetizione del comando Scala con riferimento che abbiamo incontrato in una lezione di AutoCAD 2D base Allora riprendiamo nuovamente il comando sotto edita, allinea, selezioniamo il nostro oggetto Primo punto che va a coincidere con questo punto Secondo punto per l'allineamento E poi do invio Invece questa volta di scalare l'oggetto Praticamente cosa succede? Che questa linea verrà allargata esattamente della misura uguale a quest'altra Diciamo sì Ecco che è stato scalato Annulliamo Facciamo che adesso questo qui lo vogliamo allineare qui sopra Con il primo angolo di spostamento su questo vertice qui a sinistra Quindi ripetiamo il comando Selezioniamo Quindi questo punto lo voglio qua Rotazione di questo lungo questa linea E do invio con l'opzione scala Dovrebbe andare a occupare tutto questo spazio Praticamente questa linea diventerà uguale a questa Ecco fatto C'è l'opzione tre punti nel comando allinea 2D E questo è riservato ovviamente agli oggetti tridimensionali Torniamo con l'interfaccia, quella classica di AutoCAD Allora qui invece il comando si trova sotto edita Operazioni 3D allinea Vedete la differenza tra i due a linea e a linea 3D Facciamo uscire la barra dei solidi Ossia modellazione E trasformiamo in solidi i nostri due oggetti Ecco qua Continuiamo a mantenere un colore diverso Quest'ultimo oggetto E ci mettiamo anche lo stile di visualizzazione Rifacciamo a partire il comando allinea 2D Edita Operazione 3D Allinea Allora con l'opzione tre punti Facciamo che questa faccia deve essere allineata su quest'altra Con il vertice in basso qui a sinistra Quindi se ritroviamo l'oggetto Primo punto che deve coincidere con questo Lo spostamento Con questo E il terzo punto ovviamente Che ne definisce il piano di appoggio Eccolo qua In questo caso è andato in quella direzione Se invece